In fondo devi stare sempre a guardarti in piedi, è un'attività che costringe all'umiltà, devi guardare in basso, perché devi guardare dove metti i piedi. Ed è curioso, in un'età in cui le forze declinano, invece la mia capacità di salire su dei gradi difficili aumentava. Credo che sia questo in fondo quello che cercano le persone in montagna. Credo che sia questo poi alla base della curiosità e dell'esplorazione della nostra specie umana, quella di andare a frugare i limiti.